Dottoressa Farioli, si parla mortissimo di Smart Cities, però invece si parla poco di che cosa significhi implementarle realmente, cioè rendere davvero possibili quali ostacoli si incontrino, specie in questo paese. Qual è la sua esperienza a riguardo? Beh, allora, prima di tutto è un'esperienza di tre anni e mezzo. Ho toccato 170 città e quindi devo dire, ho ascoltato un po' i reali bisogni e i reali problemi. Il problema in assoluto che esiste è la mancanza di risorse, di risorse economiche. Le città oggi non possono fare investimenti importanti perché sono bloccati dai patti di stabilità e questo è l'ostacolo più importante che esiste. Però dal punto di vista dei fornitori, di chi offre un'offerta delle soluzioni per Smart Cities, cerchiamo di venire incontro a questo ostacolo che è anche di carattere finanziario, cercando di presentare nuovi modelli, modelli di partenariato tra pubblico e privato, modelli di innovazione a costo zero, ovvero cercare di fare quegli interventi che permettono di ridurre dei costi o portare nuove entrate in modo tale che l'innovazione che si realizzi si autofinanzi. Quindi questo è proprio il concetto del costo zero. Quindi stiamo proprio cercando di promuovere queste nuove modalità, cercando anche di svolgere un'altra attività complessa sul territorio. Un lavoro di integrazione e coordinamento delle risorse perché la città non è solo il comune, ma è il comune, sono le aziende private, sono le università, sono altre entità pubbliche. Una grande quantità di attori che devono coordinarsi per agire insieme? Assolutamente, devono coordinarsi e soprattutto devono avere una visione comune di città, perché se no se abbiamo diverse visioni diventa veramente difficile. Quindi definire qual è la città che si vorrebbe realizzare e qual è il percorso. Quindi quello che è importante è avere una visione integrata e una roadmap precisa, quali sono gli step da fare. E poi in parallelo, perché il problema delle risorse economiche è fondamentale, cercare di capire quali sono le fonti di finanziamento. Quindi fondi economici europei, piuttosto questi nuovi bandi del MIUR, piuttosto che formule di project financing, interventi di innovazione autosostenibile e quant'altro. Dovendo dire, che cosa serve per poter definire una città smart? Quali sono i servizi? Qual è il profilo? Esiste un profilo unico oppure ogni città è diversa? Beh, a me piace dire che non esiste una soluzione unica di città, perché noi siamo prima di tutto italiani con una forte identità territoriale, con delle unicità del territorio che devono poter essere valorizzate. Però esiste una modalità e una tecnologia abilitante e non prioritaria che può aiutare le città a diventare smart. Che cosa significa? Significa poter, noi chiamiamo strumentare una città, che vuol dire distribuire dei sensori, in grado di recepire dati e informazioni. E il sensore può essere un semaforo, può essere un palo, può essere un cellulare, può essere un cittadino che interagisce. Allora questi dati devono poi poter essere interconnessi, quindi attraverso la rete e portarli verso il centro. Chi oggi ha l'obiettivo di creare un ambiente sostenibile, di offrire servizi di qualità di vita elevati, è il comune, l'amministrazione e il locale. Lì, in quel luogo, deve poterci essere un'intelligenza, che sono i nuovi software di elaborazione dati che oggi esistono a disposizione. Quindi raccogliamo questi dati, le interconnettiamo, li integriamo e acquisiamo una nuova intelligenza, ovvero una nuova conoscenza della città, che può aiutare a migliorare i servizi da riversare sui cittadini. Grazie. Grazie.